Nuova viabilità per il centro storico di Valdo della Lucania. A partire dal prossimo fine settimana sarà avviato il nuovo dispositivo sulla circolazione stradale per adeguare la viabilità cittadina allo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele. Così come i comuni che non ha nota stampa il comandante della polizia municipale, la nuova disciplina viaria predisposta dagli organi tecnici del comune prevede l'inversione del senso di marcia in corso Gioacchino Miurà verso Piazza dei Martiri in via Madonna del Rosario e in via Angelo Raffaele Passaro. In tal modo sarà garantito l'accesso al ridosso di Piazza Vittorio e a via Stefano Passaro, peraltro raggiungibile anche dal lato est del centro abitato vallese. Resterà interclusa la circolazione per via del cantiere Dile e l'intero tratto stradale di Piazza Vittorio Emanuele a partire dalla Chiesa Santa Maria delle Grazie. La disposizione partirà dal prossimo fine settimana, una volta collocata la prescritta segnaletica. Sono già attivi i nuovi percorsi pedonali predisposti dall'impresa esecutrice che garantiscono la piena transitabilità pedonale lungo il perimetro dell'area di cantiere. La nuova viabilità è stata presentata ieri sera ai rappresentanti del commercio locale in un incontro tra l'amministrazione comunale e la consulta dei commercianti. I rappresentanti del commercio vallese presenti all'incontro hanno apprezzato la scelta dell'amministrazione e a col tempo hanno avanzato due richieste. La rapida ultimazione dei lavori e la possibilità di installare lungo le maggiori arterie viarie cittadine una segnaletica commerciale di indicazione. La Polizia Municipale invita i cittadini a prendere atto della nuova disposizione della circolazione stradale e possibilmente utilizzare i parcheggi esterni per accedere pedonalmente al centro storico.